forse non ci siamo capiti il problema non è chi prende la juventus al posto di allegri il problema è allegri ben trovati ben trovati a tutti quanti voi spazieremo un po anche con altri argomenti in questa in questo video in questo contenuto sul quale credo di poter dire la mia molto personale molto diciamo opinabile sul attuale momento anche sulla presenza di allegri in panchina e su chi dice che allegri deve rimanere sulla panchina della juventus perché non esiste il sostituto il sostituto esiste e poi ve lo dico dopo chi è esiste un sostituto sicuro e certo di grandi risultati fino a fine stagione perché qui stiamo parlando fine a fine stagione poi c'è la questione la vicenda legata ad acerbi e al difensore del napoli che io prenderei alla juventus perché mi fa impazzire come calciatore fa proprio impazzire è molto bravo sottovalutato ma molto bravo questo ve lo assicuro e lo garantisco allora io vorrei porre l'attenzione su questa vicenda molto incresciosa perché perché io sono stato uno che nel passato pregato per acerbi quando ha attraversato un difficilissimo momento ho sempre guardato questo calciatore come ad una risorsa importante un esempio di grande valore per il calcio italiano perché lui come sapete in passato ha avuto dei grandi problemi però credo che da quando si è arrivato all'inter ha proprio totalmente cambiato il modo di agire e di vedere alla lazio era un calciatore era un uomo diverso forse anche perché proprio la lazio aveva vissuto quella situazione molto molto brutta devo dire che ha superato grazie a dio in maniera eccellente ebbene guardavo la partita con degli amici l'altra sera inter napoli e mi accorgevo di un cambiamento totale di di atteggiamento di questo calciatore questo ancora prima che si verificasse quello che poi purtroppo brutalmente si è verificato al ai danni di gesus a quale va la mia solidarietà totale allora io vedevo e commentavamo tutti qua insieme la trasformazione vergognosa di acerbi non più un bel giocatore un ragazzo che ha superato un momento difficile ma un mastino cattivo cioè questo a dimostrazione del fatto che quando mettono quella maglia cambiano si incattiviscono esce fuori il calciatore l'uomo viene fuori la cattiveria dell'ambiente del dna di quella gente purtroppo devo dire purtroppo devo dire e allora credo che il razzismo vada combattuti a tutti i livelli e acerbi la deve pagare avete visto come spalletti allenatore della nazionale ha voluto minimizzare dice a me il giocatore non ha detto questo come i due calciatori prima si sono in campo diciamo chiariti lui ha chiesto scusa e poi lui cambia versione scusa se tu chiedi scusa vuol dire che hai detto quello che hai detto no che non ripeto nemmeno perché non si deve proprio sentire questa cosa tanto che è squallida allora se tu l'hai detta sta cosa no chiedi scusa perché adesso che vai davanti all'allenatore della nazionale da dove è stato mandato via magari andrai in in procura federale dove è stato convocato a dire tutt'altro a dire che tu quella cosa non l'hai detta e per che cosa hai chiesto scusa scusami per cosa ti sei scusato per quale motivo ti sei scusato allora invece no il club l'inter gli avvocati gli hanno detto di negare di cambiare la versione ancora più grave ancora più punibile anche intellettualmente e allora basta allora basta cioè il nazismo va combattuto a tutti i livelli a cerbi a mio modesto parere deve pagare voi immaginate i tifosi del leader che dicono vabbè ma quella cerbi quello l'ha detto Gesù allora ognuno che dice una cosa in campo ne prendiamo atto cioè negazionisti fino alla fine guardate che ha ammesso a cerbi quello che ha detto ma sono negazionisti fino alla fine negano negano a cerbi va punito totalmente questa volta va punito perché lui deve dare l'esempio proprio lui che è un ragazzo che viene fuori dalla vicenda difficile quindi solidarietà al giocatore del napoli che prenderei alla juventus perché è bravissimo sottovalutato lo dico ancora una volta ma mi raccomando ci vuole una posizione esemplare arriverà non credo e torniamo alla vicenda alla vicenda non credo perché poi l'inter farà prevalere il suo potere politico no vedrete che cosa succederà su questa vicenda vedrete veniamo a parlare di di ancora di allegri che purtroppo è un argomento centrale ho sentito dire una versione anche diciamo accettabile quella che non c'è il sostituto invece il sostituto c'è non c'è il sostituto per allegri e allora bisogna andare fino a fine campionato con lui e poi se ne deve andare lo dicono tutti youtuber i giornalisti opinionisti ora non è il momento mentre tutta la tifoseria bianconera pressa per il per l'esonero ma perché c'è una motivazione c'è una motivazione chiara perché questo momento difficilissimo porta a direi sostenitori esonero perché poi tutti abbiamo paura che non lo esonerano più passato usando passata festa se dice al mio paese questa cosa non vuole e non deve passare avete capito perché diciamo i tifosi della juve esasperati non vogliono più perdere tempo allora molti dei quali addirittura sperano in un fallimento della juventus anche per quanto riguarda la champions league fanno il tifo contro è sbagliato bisogna tifare la juventus anche con totorrine in panchina ma ne faccio guardate ho detto totorrine in panchina per carità è un esempio con il diavolo in panchina ecco siamo questa bisogna sempre tifare la juventus sempre tifarla io la tifo anche nelle amichevoli del giovedì pensate un po ma abbiamo paura che tutti questi opinionisti youtuber dicono ma non c'è il sostituto non si può bisogna andare avanti con lui poi si cambia poi si cambia ma poi si cambia poi cominciano nuovamente i titoli di giornali max qua max line cinque scudetti l'uomo vincente ma nessuno meglio di lui comincia tutta una campagna pro allegri che cambia il quadro purtroppo è di questo che noi abbiamo paura perché il ragionamento che allegri può andare fino alla fine basta che se ne va può anche reggere può anche diciamo essere giusto avere un nesso logico ma bisogna cogliere la palla al balzo non ce la facciamo più di tenere questo allenatore manco per le prossime nove giornate quindi la paura qual è la paura è che questo rimane e che superata questa crisi poi comincia tutta una campagna a favore comincia sky caressa poi pressing sabbatini e zazzaroni poi cominciano il tutto sport che comincerebbe a fare titoli coriore dello sport a fare titoli e cambiano la versione dei fatti e noi questo noi di questo abbiamo paura abbiamo paura di una conferma superamento della crisi una conferma però negli ultimi tempi negli ultimi giorni è venuta fuori più di una conferma di quello che io da tempo vi sto dicendo e allora la repubblica che il quotidiano della famiglia Agnelli non solo la stampa ma anche la repubblica sta sollevando negli ultimi giorni i dubbi sui rapporti tra alleghi e la squadra e che lo dice repubblica il comportamento di allegri nel dopo partita con teotino a sky non è piaciuto alla dirigenza nella società fra l'altro repubblica afferma che la comunicazione il modo di porsi dell'allenatore da tempo e nel mirino delle critiche della dirigenza la repubblica titola allegri ha perso il controllo della squadra il sospetto viene e si allontana il suo futuro alla juventus lo dice repubblica giornale del gedi famiglia el can non lo dice io non lo dico io in pratica la repubblica scrive la dirigenza sarebbe rimasta a dir poco preoccupata dell'atteggiamento di max allegri di fronte alla telecamera sky dopo aver risposto in modo arrogante e maleducato a gianfranco teotino che ha mantenuto uno stile tutt'altro che provocatorio un segnale che potrebbe denotare il fatto che allegri stia perdendo la bussola della squadra e in generale la repubblica affonda i colpi gli scrive non trova di meglio che litigare in diretta con gianfranco teotino a sky lite a senso unico il giornalista non ha perso la calma né detto una parola fuori posto mentre max in sintesi sosteneva non potete giudicarmi perché non capite era alle corde per manganza di argomenti anche perché per giustificare il settimo punto in otto gare bisognava arrampicarsi sugli specchi e lui ci ha provato per stridore di ungui sostenendo che il bicchiere è mezzo pieno perché non abbiamo preso un tiro in porta allegri invece non si dice né nervoso né preoccupato ma non ha risposto a una domanda diretta ha ancora il controllo sulla squadra o l'ha perduto si chiede il la repubblica il sospetto a vederla giocare viene chiude chiosa il quotidiano che solleva dunque seri dubbi e soprattutto svela che i dirigenti sarebbero molto perplessi sul futuro di allegri il tecnico della panina bianconera secondo i dirigenti lo scrive repubblica non ci voleva un genio per capirlo certe scenate secondo la società non sono più ammissibili i dirigenti sarebbero rimasti perplessi anche sulla recente comunicazione del tecnico quando dice abbiamo preso un punto al bologna e anche in conferenza stampa del dopo partita ha riferito che il bicchiere è mezzo pieno abbiamo fatto un passo in avanti alla continassa sembra scrivere pubblica che non abbiano gradito soprattutto questi continui comportamenti che stanno denotando una scarsa lucidità certe sparate stanno facendo perdere credibilità al tecnico ma anche alla società che almeno per il momento assiste colpevolmente in silenzio mentre per tutto sport l'esonero anticipato non è in discussione seppur i suoi numeri secondo marco bo il giornalista tutto sport sarebbero da esonero per repubblica però si prefigura un cambio di panchina in estate se la situazione non dovesse degenerare prima visto che le perplessità dei dirigenti soprattutto sulla comunicazione del tecnico cioè praticamente repubblica che il giornale della famiglia e il canno dice questo per dirlo repubblica una motivazione ci sarà se lo chiede repubblica problema è che i narratori i commendatori gli opinionisti i giornalisti gli youtuber che continuano a sostenere che questo deve rimanere fino a fine campionale e poi si deve cambiare è una paliativo e lo specchio per le allodole non funziona così non funziona proprio così perché 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 vi ripeto poi comincia tutta una storia tutta una vicenda che porterebbe a far rientrare la posizione di allegri è stato sempre così guardate e questi momenti si sono già vissuti in passato poi magari arriva qualche vittoria qualche risultatino via dicendo no non va bene non va affatto bene ecco perché il popolo bianconino non si fida vuole l'esonero subito anche perché non si fida di allegri in questo momento che l'uomo giusto o meglio l'uomo sbagliato al posto sbagliato perché con allegri si continuerà ad andare all'indietro voi dici ma i cambi di panghina non hanno portato ad effetti immediati intanto la Roma avete visto ha cacciato fuori quel quell'energumeno di Murigno e si è ripresa e non è che sulla panghina ci è andato chissà chi ci è andato un motivatore certo la situazione di De Rossi a Roma è diversa vabbè mi pare che l'Empoli ha migliorato le sue prestazioni la serenetana no che ieri ha cambiato l'ennesi il quarto allenatore è tornato con l'antuno sulla panchina quindi la serenetana no mi pare che c'è qualche altro esempio l'Udinese nemmeno tanto però è evidente che soprattutto quando si ha una grande squadra quando si ha una squadra non all'altezza ma quando si ha una grande squadra come la Roma per esempio i giocatori sono bravi poi fai i risultati la Juventus è una grande squadra allora mi dice il sostituto non c'è e c'è il sostituto c'è ma ci torniamo dopo sul sostituto di Allegri c'è il migliore sostituto possibile fine e fine campionato dell'Allegri ma volevo aprire una parentesi anche sulla sullo spionaggio e beh sul caso Suarez avete visto è capitato di tutto e di più perché è capitato di tutto e di più perché sul caso spionaggio la situazione si è fatta drammatica e Striano Guadagno Santoriello Dilello Pecoraro Narducci Auricchio e tanti altri sono coloro che da tempo hanno cercato di mettere sotto inchiesta la Juventus la verità il giornale di Belpedio parlava di passione degli spioni per la Juventus caso Suarez Agnelli Superlega gli spioni puntavano sulla Juventus allora c'è questo titolo del Corriere dello Sport Juve spiata di oggi scoperti i dossieri illegali per colpire la società è Juventino vero che affonda i colpi e scrive dalla vicenda Suarez scoppiata proprio a Perugia il caso dell'esame dell'uruguaiano è un esempio piuttosto clamoroso di come enormi parti di documenti e intercettazioni ancora sotto segreto istruttorio sono stati passati ai giornali da un cancelliere perugino grande tifoso del Napoli sottolinea il giornale la verità che ha poi patteggiato dove l'abbiamo già sentita quella del tifoso del Napoli ebbe i quattro giudici napoletani che mandarono la Juventus in B Palazzi Borrelli Beatrice Narducci ve le ricordate? Guadagno Guadagno praticamente è un tifoso del Napoli e la fuga di notizie dalla procura di Perugia lo ha portato alla giustizia ordinaria a patteggiare dove si può patteggiare perché nel penale come ben sapete si può patteggiare su questa fuga di notizie dunque ha preso un anno e due mesi era stato indagato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio l'ex funzionale della procura della Repubblica di Perugia Raffaele Guadagno indagato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla fuga di notizie sull'inchiesta loggia Ungheria ha patteggiato la propria condanna a un anno e due mesi pena sospesa e con menzione però dunque pena sospesa e non menzione le indagini l'inchiesta era stata avviata nel luglio scorso anno dal procuratore Raffaele Cantone quanto a seguito dell'esposto delle richieste di archiviazione relativa all'indagine sulla loggia Ungheria erano state pubblicate sui giornali ulteriori dettagli rispetto a quelli diffusi in via ufficiale da IPM dalle indagini erano stati riscontrati alcuni accessi al sistema informatico TIAP dell'ufficio cioè praticamente che facevano spiavano la Juventus e poi passavano le veline ai giornali e i giornali facevano i titoloni e voi abboccavate voi dico non i tifosi della Juventus gli altri perché vi faceva comodo abboccare parlare per esempio del caso Suarez è stato per tutto così per tutte le vicissitudini è stato così purtroppo devo dire la situazione è molto delicata assai drammatica per quanto mi riguarda quindi la questione dello spionaggio è una questione particolare anche perché adesso si sposa con la questione del Milano cioè il capo della procura di Milano come vi ho detto l'altro giorno come vi ho scritto e che ora tutti quanti hanno riportato per fortuna guardate che io ho dato molte primizie negli ultimi 2-3 anni che poi sono assurte a livello nazionale in pratica la questione relativa a a Marcello Viola il PM capo della procura di Milano è molto chiara è molto evidente il tifoso dell'Inter vi ho fatto vedere il video l'altro giorno un super tifoso dell'Inter che praticamente ha messo in evidenza come ripeto come si agisce nelle procure per tifo per ultras ma quello ultra di indagare il Milan non indaga l'Inter questa è la cosa strana torniamo alla Juventus torniamo alla Juventus chi è il sostituto di Allegri più importante che e di sicuro successo per le prossime nove partite quelle che portano praticamente alla fine del campionato c'è un solo sostituto ed è il migliore l'ombra di Allegri cioè la cacciata l'unico possibile sostituto positivo per Allegri è cacciarlo quello è un risultato sicuro si va se si caccia si va in Champions League chiunque va sulla panchina lui l'ha talmente controversia la vicenda che si rischia di non andare in Champions League naturalmente naturalmente mi auguro che si vada subito in Champions League vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vesic attivare la campanella delle notifiche mettere un like se lo ritenete opportuno voglio vedere i vostri commenti spero sia tanto iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale